L'esclusione delle imprese L'esclusione delle imprese campane dai benefici previsti dagli ultimi dispositivi del governo Monti, una esclusione che ha generato anche l'aspra critica del Presidente della Regione Stefano Caldoro. E' questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Massimo Grimaldi, esponente del nuovo partito socialista e Presidente della Commissione regionale Bilancio. Toni duri da parte del Presidente Caldoro. Toni duri perché non si può diversamente manifestare una contrarietà reale e forte ad un provvedimento inico, un provvedimento ingiusto da parte del governo, che è un provvedimento che riguarda la compensazione tra la pubblica amministrazione e le imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi è un provvedimento giusto, un provvedimento che andava messo in atto da parte del governo perché ci sono molte imprese che oramai hanno problemi enormi di difficoltà, di liquidità, molte stanno chiudendo ed è un po' il cane che si morde la coda perché le imprese non riescono a pagare tutto quello che c'è da pagare dal punto di vista contributivo e dei vari dispositivi fiscali da parte delle imprese, quando le imprese poi vantano crediti enormi nei confronti della pubblica amministrazione. Un'impresa non può presentare il DURC, che è il documento di regolarità contributiva, che la pubblica amministrazione in generale richiede ad un'impresa per poterla pagare. Se l'impresa non mi paga, io sono in difficoltà con il fisco perché ho mancanza di liquidità, non posso presentare il DURC, non presentando il DURC l'ente pubblico, l'azienda non mi può pagare. Quindi un vorticoso intreccio di questioni, di difficoltà che vengono create all'impresa semplicemente perché c'è un problema di liquidità da parte delle pubbliche amministrazioni. A questo il governo ha cercato di mettere mano facendo una sorta di compensazione, però esclude da questo provvedimento le regioni che sono in piano di rientro sul disavanzo della sanità, come la Campania. È un provvedimento ingiusto per due motivazioni. Una perché oramai i cittadini della Campania e voi che siete addetti ai lavori sapete quanti sforzi abbiamo fatto in questi due anni per cercare di rientrare dal disavanzo della sanità. Abbiamo messo in campo misure e atteggiamenti virtuosi, abbiamo quasi azzerato il disavanzo della sanità. Siamo partiti da 778 milioni quando abbiamo preso questa regione in mano quasi due anni fa, fino ad arrivare ai 220 del consultivo 2011. Immaginiamo addirittura per quest'anno, cioè al termine dell'esercizio finanziario 2012, di azzerare il disavanzo della sanità. Se a questo però non segue una giusta attenzione, non facendoci regale perché non chiediamo niente, non ha chiesto niente in più Caldoro, ha chiesto semplicemente di essere paragonati e trattati alla stregua di altri. Ed è quello che poi chiedono gli imprenditori. Lei immagini che cosa significa un imprenditore dell'Emilia Romagna, della Toscana, dell'Umbria, dell'Abruzzo, piuttosto che di un'altra regione può usufruire di questo provvedimento legislativo e quindi fare compensazione con la pubblica amministrazione, e quindi regolarizzare il problema con il fisco e quindi mettere in carreggiata di nuovo l'impresa e farla uscire in un momento di difficoltà nella quale l'impresa stessa è capitata e non dovuta solo per colpa dell'impresa ma dovuta alla crisi economica, alla mancanza di liquidità da parte dell'amministrazione. Un imprenditore della Campania questo non lo può fare. Questo mi sembra un vero divario tra Nord e Sud, un vero divario tra anche imprenditori che hanno la stessa mission, che hanno la stessa vision, che lavorano magari lo stesso prodotto, sono in competizione sugli stessi mercati però c'è una differenza enorme di trattamento. Questo significa favorire taluni, penalizzare altri. Questo va da sé che non è giusto. Ecco, dalle difficoltà per le imprese campane alle difficoltà degli abitanti delle isole. Le compagnie di navigazione del Golfo hanno deciso di aumentare le tariffe. Non è mancata anche in questo caso la proposta, la protesta della Regione, in questo caso per bocca dell'assessore Vetrella. Giusto anche l'intervento dell'assessore Vetrella stamattina sui giornali che ammoniva le compagnie a non prendere provvedimento di questo tipo anche perché potrebbero incorrere in sanzioni amministrative, cioè potrebbero restituire quello che loro stanno chiedendo di più ai cittadini di quelle isole che hanno già grosse difficoltà negli spostamenti perché non vivono appunto sulla terraferma ma soprattutto ai tanti turisti che si affronteranno oramai la stagione estiva, quelle che tutti aspettiamo nella nostra regione, in quelle bellissime isole del Golfo Napoletano proprio per poter cercare di recuperare un momento di difficoltà. Quindi aumentare anche le tariffe sicuramente è un elemento in più che concorre ad un aspetto negativo dal punto di vista del turismo e non dal punto di vista positivo. Per cui immagino, credo, anzi io sono convinto che le compagnie ci ripenseranno. Voltiamo pagina, occupiamoci di politica nazionale, non sono molto chiari gli scenari possibili dopo il voto amministrativo. Pantarei tutto scorre e tutto è da definire, nulla sarà più come prima, il ritornello che ritorna sempre più frequentemente sulle bocche dei politici e degli osservatori. Mi sembra scontato che nulla sarà proprio come prima, nel senso che i grossi partiti sono in difficoltà, non è una questione di vittoria o di sconfitta di questo o di quello schieramento, di questo o di quel partito. Io credo che da queste elezioni siano usciti sconfitti un po' tutti i partiti, non solo per l'attestazione della lista Grillo piuttosto che alcune vittorie che non erano in qualche modo in previsione, ma soprattutto per un dato reale che è il forte astensionismo che si è registrato in tutta Italia, che è il forte astensionismo che si è registrato soprattutto nei turni di ballottaggio del primo turno. Questo è un elemento vero da valutare, che è il sintomo di un'insofferenza da parte degli elettori, da parte dei cittadini, che non vedono nella politica, nella buona politica, non vedono più quella forza di assumere decisioni, di poter affrontare le questioni e il dato della diminuzione del grado di fiducia nei confronti del governo Monti è significativo anche in questa direzione, nel senso che i cittadini oramai fanno di tutta erba un fascio rispetto a questo ed è giusto quindi che i partiti affrontino una stagione nuova, che sia una stagione che preveda il rinnovamento mettendo al centro la meritocrazia e i bisogni e le aspettative dei cittadini, certo con le difficoltà che ci sono, nessuna la bacchetta magica, ma cercare di ritornare a parlare con gli elettori, ritornare a spiegare quali sono le difficoltà e insieme immaginare, quindi raccogliere le loro proposte e immaginare di trasformarle in provvedimenti legislativi. Questo è il ruolo delle istituzioni, il ruolo dei partiti va completamente rivisto, cioè quell'intermediazione vera che deve svolgere tra le istanze dei cittadini e le istituzioni i partiti non la svolgono più ed è giusto che si ritorni anche ad un sistema elettorale, quindi bene quello che sta facendo del Parlamento in queste ore, è bene il richiamo del Presidente della Repubblica sulla necessità di mettere in campo riforme serie anche sul sistema elettorale, sul finanziamento dei partiti e sulla riduzione dei numeri dei parlamentari che obiettivamente mi sembra un po' troppo rispetto al nostro Paese e rispetto al lavoro che spesso si fa in quei palazzi. Un'ultima domanda, il risponso delle urne ha certificato anche la fine del bipolarismo? Ma sì, credo che più che la fine del bipolarismo ci sia la fine del bipolarismo così inteso. Sono convinto che invece che l'elettore è ancora semplificatore in questo, vota uno schieramento piuttosto che un altro, ma l'elettore soprattutto vota in base a quello che è il sistema elettorale che gli diamo. Fino ad oggi l'elettore non ha scelto, gli è stato imposto questo o quello schieramento. Quindi bisogna ritornare a dare la parola agli elettori, la possibilità che gli elettori possano scegliere i propri rappresentanti con consapevolezza e anche con la possibilità di metterli alla prova rispetto a quello che stanno espimere per i propri territori, per la politica e in generale per il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, i cittadini e i palazzi. Il cittadino è i problemi che devono essere al centro della discussione politica quotidiana. Questa è la vera sfida ed è su questo che i partiti dovranno misurarsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Bene, buon lavoro a voi tutti. Grazie per la cortesa attenzione. Talquino politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora. Grazie a lei.